a questa nostra prima diretta del mattino, questo nostro appuntamento con la rassegna stampa che inizia come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Vediamo cosa ci dicono gli esperti dell'Osmer Arpa. Oggi sul Friuli Venezia Giulia avremo al mattino cielo coperto con piogge deboli e sparse su pianura e costa, moderate sui monti. Dal pomeriggio ancora coperto sui monti con piogge moderate e quota neve sui 1800 metri circa, mentre su pianura e costa avremo nuvolosità variabile con qualche schiarita, ma sarà possibile anche qualche pioggia residua, possibili foschie anche dense e specie di notte. Vediamo le temperature minime di 8-11 gradi in pianura e sulla costa, e massime che andranno dai 14 ai 16 gradi. Vediamo anche qual è la situazione viabilità sulle principali autostrade della nostra regione, ecco il sito infotraffico di Autovie Venete che ci segnala al momento un incidente sulla A4 Torino-Trieste, in direzione Torino, tra La Tisana e Porto Gruaro. Ecco l'avviso che ci segnala appunto questo incidente che sta causando anche qualche rallentamento. E ora il momento delle prime pagine dei quotidiani nazionali, allora andiamo subito sulla prima del Corriere della Sera, vediamo il titolo di apertura dedicato a una nuova stretta antiterrorismo negli Stati Uniti, stretta sui voli. Stati Uniti e Regno Unito, PC e tablet vietati in cabina a chi parte da dieci paesi musulmani. Il provvedimento voluto da Trump oggi anche Roma decide se adeguarsi. Sarà vietato dunque portare come bagaglio a mano computer e tablet, consentiti invece a bordo i cellulari, una misura antiterrorismo che potrebbe essere adottata anche dall'Italia. E poi vediamo a centropagina una foto di una delle manifestazioni, della manifestazione che si è svolta a Locri, organizzata da Libera contro le mafie. Don Ciotti a Locri, ribelliamoci all'impotenza. I ragazzi e il no alla mafia, qui siamo tutti sbirri. In 25 mila a Locri con Libera per dire no alle mafie. Oggi siamo tutti sbirri qui per la Calabria che non accetta di essere identificata con l'andrangheta, la massoneria, la corruzione. Questo è quello che ha detto il fondatore di Libera. Don Ciotti, anche a Udine ieri ci sono state delle manifestazioni, sempre nell'ambito della giornata dedicata alle vittime di mafia, poi lo vedremo sui quotidiani locali. Passando alla politica, nel taglio alto, spazio alle parole di Bersani che ieri ha detto sono pronto al dialogo in diretta con Grillo Bersani contro le larghe intese antipopulisti. Pronto al dialogo in diretta con Beppe Grillo. È il senso della frase pronunciata da Pierluigi Bersani a Campobasso. Frase un po' criptica ma non fino al punto da celare l'idea di una possibile prospettiva politica diversa da quella immaginata finora per gli scissionisti di democratici e progressisti. I 5 Stelle tengono in stand by il sistema ma se alle prossime elezioni in assenza di un centro-sinistra largo si indebolissero arriverebbe una robaccia di destra. Sarebbero i grillini quindi non il PD a trazione renziana, largine alla deriva populista e nazionalista. Queste le parole di Bersani. C'è anche un'intervista a Di Maio del Movimento 5 Stelle oggi sul Corriere. Di Maio che dice niente alleati, avremo il 40%. Andiamo a scorrere velocemente anche gli altri titoli di apertura. Andiamo su Repubblica, vediamo nel taglio alto la notizia con la quale è aperto anche il Corriere. Allarme per le bombe nei tablet vietati sui voli per Stati Uniti e Londra. Coinvolti 10 paesi arabi, temiamo attentati, allerta in Francia e Canada. E poi una fotonotizia a centropagina a Roma, 17 in fumo per guasti o incuria. Ogni giorno se ne rompono 300. Il falò dei bus nella palude della capitale. Ecco il titolo e anche questa fotonotizia che ci mostra questo autobus in fiamme a Roma. Chiudiamo la Repubblica e andiamo adesso sulla prima pagina del manifesto. Vediamo anche in questo caso la manifestazione di ieri a Locri. Ecco il titolo Mani Libere. Decine di migliaia in tutta Italia contro le mafie nel giorno del ricordo delle vittime della criminalità organizzata. Locri epicentro delle manifestazioni promosse da Libera. Andiamo anche sulla prima pagina di Libero. Ecco il titolo di oggi. Equitalia è impazzita, fermatela. 5 milioni di lettere spedite per spingere gli italiani ad approfittare degli sconti per rottamare le cartelle. Ma è subito caos. In molti casi gli avvisi sono sbagliati e le somme richieste non sono dovute. Errori o trappole, si chiede Libero. Intanto il governo toglie altri soldi ai pensionati per dare il bonus bebè anche alle mamme ricche. Chiudiamo Libero e andiamo sulla prima del giornale. Ecco il titolo. Scatta il piano di guerra per difenderci dai black bloc Roma in stato di assedio. Allerta massima per il corteo no Unione Europea. Pronti anche 25 super blindati. Roma rischia la guerriglia, scrive il giornale. Adesso chiudiamo per andare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco il titolo di apertura del fatto. Minzo interdetto e abusivo, grasso lo faccia cacciare. Da 15 mesi l'ex direttore del Tg1 occupa il seggio in barba alla sentenza. Il Senato ha respinto la richiesta di decadenza per la Severino ma nella condanna di Cassazione il giornalista eletto con Forza Italia viene allontanato dai pubblici uffici. Chiudiamo anche il fatto e andiamo adesso a vedere la prima della stampa. Ecco il titolo di apertura. Migranti intesa con Berlino. Parla Minniti anche Austria e Svizzera hanno promesso un'apertura. Il ministro dell'interno dopo il patto del vertice di Roma a lavorare per un accordo con l'Egitto. Minniti rilancia dunque il piano di collaborazione europea sui migranti. E poi vediamo anche la fotonotizia a centropagina. Il cibo, l'ultima preda dei ladri. Prima vino e nocciole, ieri il parmigiano. Sparita merce per un valore di 3 miliardi. Per la Coldiretti in tre anni sono state rubate 20.000 forme di parmigiano reggiano. Ed ecco anche la fotonotizia in primo piano sulla stampa. Che adesso chiudiamo per andare a vedere la prima del sole 24 ore. Ecco il titolo di apertura. Banche e Venete proroga per le offerte ai soci. Verso un allungamento delle scadenze per raggiungere almeno il 70-75% delle adesioni all'offerta di transizione. Per Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Chiudiamo adesso anche il sole 24 ore. Un flash veloce sulla prima pagina della Gazzetta. Che poi riprenderemo nel corso della nostra rassegna stampa sportiva. Si parla di mercato, affari da brivido, contratti pesanti in scadenza nel 2018. Il mercato si scalda da Mertens a Donnarumma, Sanchez, Strootman, De Sciglio e via dicendo. E poi ancora Verratti via dal Paris Saint-Germain. Forse sì, nel futuro un top club. Chiudiamo adesso anche la Gazzetta e andiamo velocemente sui quotidiani locali. Andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Vediamo subito la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine. Andiamo a vedere la prima pagina del fascicolo locale. Così vediamo subito l'apertura delle pagine dedicate a Udine e Provincia. Amga in era un affare 4 milioni il dividendo 2016. La Multi Utility li pagherà al Comune a giugno. E al fisco in Friuli Venezia Giulia restano 62,4 milioni di euro. Previsto l'aumento anche del dividendo per azione. Nel 2019 raggiungerà i 10 centesimi. E poi ancora sfogliando le pagine del Messaggero Veneto, dicevamo prima delle manifestazioni che si sono svolte anche a Udine nella giornata per ricordare le vittime della mafia in Friuli, il contagio è iniziato. Non più Isola Felice. Centinaia di persone alla giornata della memoria. In Piazza Libertà il prefetto Zappa Lorto dice Insegniamo ai giovani l'impegno e il sacrificio. Anche noi abbiamo seguito ieri questa manifestazione assieme alla collega Monica Nardini. Allora andiamo a vedere i servizi che abbiamo realizzato per raccontare come è stata vissuta a Udine questa giornata. Vediamo. ancora un secondo. Allora andiamo a vedere ancora le foto sulla pagina del Messaggero Veneto. Tanta gente in Piazza Libertà ma anche in teatro dove c'è stato un incontro con gli studenti. Allora vediamo il nostro servizio. Giorgio Gennaro Giovanni Zangara Costantino Stella Siamo tutti vicini ai familiari delle vittime delle mafie e questo deve essere un momento non solo formale di ricordo non è una passerella ma un momento in cui ognuno di noi si assume la propria responsabilità per la costruzione di una società più giusta e per un'Italia liberata dalle mafie. Per un contrasto alle mafie che anche nel nostro territorio come è stato fatto presente più volte non mancano. Certamente e quindi anche un invito ad assumersi la responsabilità dell'informazione. Ormai è sotto gli occhi di tutti e le relazioni istituzionali ce lo dicono infiltrazioni mafiose nella nostra regione ci sono una regione che è appetibile per gli interessi delle organizzazioni criminali. Giovanni cosa vi chiedono più spesso? Di cosa restano più stupiti? Che anche nella nostra regione ci possono essere organizzazioni criminali che si infiltrano restano però soprattutto invogliati dall'impegno e dalla bellezza della corresponsabilità quando tutti ci sentiamo responsabili per il destino della nostra nazione. Allora andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del fascicolo di Pordenone. Vediamo il titolo di apertura. Eccolo, negozi non decolla, la app ha pagamento. Ecco il titolo. Una sola attività ha scelto di fare promozione con Fonsi perché il servizio costa 100 euro l'anno. Il comune media. Una volta c'era la city card ma il fatto che il supporto per raccogliere i punti e ottenere sconti comportasse un impegno dei commercianti anche economico ha fatto sì che la carta della città diventasse strumento per una nicchia di operatori rispetto a quelli che potenzialmente avrebbero potuto usarla. Non solo la poca propensione dei commercianti all'investimento ha fatto sì che l'ipotesi di usare la carta anche per pagare il parcheggio non si traducesse in realtà. Poi è arrivata Fonsi, l'app scelta da GSM per consentire ai pordenonesi e non di parcheggiare in città con una semplice procedura sul telefono cellulare. Ma anche questa operazione stenta a decollare. Chiudiamo il messaggero veneto di Pordenone. Adesso andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero veneto di Gorizia. Eccola, sono 348 i dipendenti, costano 14 milioni di euro. Dal 2008 i tagli al personale hanno permesso di risparmiare 2,8 milioni all'anno. In organico anche 12 persone a tempo determinato, 91 quelle in amministrazione. Chiudiamo il messaggero veneto di Gorizia adesso e andiamo a vedere anche le prime pagine del piccolo e del gazzettino. Il piccolo di Trieste apre ancora con la ripresa dell'incidente avvenuto all'interno della galleria di Montebello. Non lasciate così quella galleria voci da Montebello dove è morta Tania. Lì dentro buio, ghiaccio e topi. Quindi ancora polemiche per quanto riguarda la situazione della galleria di Montebello a Trieste. Dove, lo ricorderete, nei giorni scorsi c'è stato un brutto incidente e costato la vita a una giovane scuterista. A centropagina la fotonotizia della provincia del palazzo della provincia di Trieste, ex provincia, i palazzi costano 300 mila euro. Al giorno dal divano in pelle al pc vintage, ecco quello che si trova nell'inventario della provincia di Trieste. Ecco, questa era la prima pagina del piccolo che adesso chiudiamo per andare sul gazzettino. Ecco il titolo di apertura del gazzettino. Arriva a Minniti, gelo dei sindaci, solo in 56 su 575, a Treviso per l'incontro con il ministro che promette svuoteremo Bagnoli e la Serena con avvia al progetto sostenuto dal Papa per trasferire 100 profughi in Argentina. In apertura quindi una notizia che ci arriva dal Veneto. Per quanto riguarda il Pordenonese invece, ecco una notizia che troviamo nel taglio alto, esce di casa e trova sui muri le sue foto hard. in varie zone di Pordenonese sono stati appesi volantini con immagini osè. La donna ha denunciato l'accaduto, forse una vendetta all'origine del fatto. Esce di casa e trova le sue foto hard appese sui muri in varie zone della città. Forse una vendetta, forse di un ex. Resta il fatto che una ragazza di Pordenonese ieri è stata diffamata in maniera molto pesante. La giovane si è subito rivolta alla polizia dove ha presentato una denuncia e sono immediatamente scattate le indagini per cercare di individuare il colpevole di quanto accaduto. Sui volantini, oltre a frasi ingiuriose, è stato messo anche il numero di telefono della giovane, telefono che ieri ha squillato a ripetizione. Ecco alcune notizie in prima pagina sul Gazzettino. Andiamo adesso a scorrere anche le pagine interne. Andiamo sulle pagine dedicate al Friuli. Ecco il titolo di apertura. Voucher scontro sui bonus. Marchiori di Confcommercio li definisce una boiata. Panariti, brutto linguaggio. E poi erano d'accordo ieri in commissione consigliare il disegno di legge con gli incentivi a chi assume scontro a distanza tra l'assessore regionale al lavoro Loredana Panariti e il presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia Alberto Marchiori ad infucare gli animi e la nuova misura regionale illustrata ieri in sesta commissione consigliare che prevede l'assunzione dei cosiddetti voucheristi intensivi a tempo determinato almeno sei mesi o indeterminato attraverso incentivi ai datori di lavoro che li hanno rimunerati nel 2016 ma specifica Panariti pensata prima dell'abolizione voluta dal governo. Anche noi questa sera nel corso del nostro speciale del Tg non dalle 21 ci occuperemo proprio di questa tematica. Torneremo dunque sull'argomento voucher sulla loro abolizione sentiremo i diversi pareri le diverse opinioni anche di chi adesso non potrà più utilizzare come lavoratore proprio lo strumento dei voucher. Voltiamo pagina sempre sul gazzettino un incendio ieri a San Daniele ecco il titolo Fiamme in fabbrica operai in ospedale dopo un principio di incendio una decina di lavoratori visitata per precauzione tutti dimessi la produzione è stata riavviata dopo i controlli pompieri al lavoro anche a Mortegliano allora andiamo a vedere il nostro servizio che ci riassume un po' questi due fatti di cronaca vediamo un violento incendio ha distrutto un capannone agricolo tra Lavariano e Pozzuolo a poca distanza dall'elettrodotto le fiamme hanno incenerito un migliaio di rotoballe di fieno arrecando anche gravi danni alla struttura in acciaio ancora incompleta i lavori infatti sono bloccati per un contenzioso conterna costruttrice dell'elettrodotto re di Puglia a Udine diverse le chiamate ai vigili del fuoco in quanto le fiamme sono risultate visibili anche da lontano data la velocità con cui si sono propagate e la violenza dell'incendio sono intervenuti 5 mezzi dei pompieri con una squadra di supporto da Gorizia restano da chiarire le cause dell'incendio da escludere però che si sia trattato di un problema elettrico in quanto il deposito non è dotato di impianto un malfunzionamento dell'impianto di aspirazione ha invece provocato l'incendio divampato nella fabbrica di protesi mediche Lima di San Daniele del Friuli 10 operai sono stati sottoposti ed accertamenti in ospedale per sospette inalazione di gas monossido ma fortunatamente sono stati tutti dimessi guarda la cronaca andiamo a vedere anche un altro servizio realizzato sempre dalla nostra redazione cronaca un servizio su un nuovo semaforo molto particolare per gli attraversamenti pedonali a Palmanova andiamo Palmanova apri pista in Italia per la sicurezza stradale la città stellata è infatti la prima ad aver installato lo stop salva pedoni il dispositivo che consente di ridurre notevolmente lo spazio di frenata dei veicoli in prossimità delle strisce pedonali realizzato e brevettato da una start-up friulana la Smartway l'innovativo sistema è stato posizionato davanti alla scuola media Zurutti e davanti alla residenza Exermada in via Loredan abbiamo visto il coraggio dell'innovazione che è il coraggio appunto di un'azienda start-up qua della nostra regione di investire in ricerca per la sicurezza ma anche il coraggio dell'innovazione da parte di un'amministrazione comunale quella di Palmanova che si è buttata in questa iniziativa di sperimentazione che devo dire ha un incredibile riscontro oggettivo rispetto alle prove che abbiamo potuto vedere quindi un grande aiuto proprio perché oggi si parla di ricerca ricerca dei materiali innovazione aziende locali e sicurezza dei cittadini quindi un connubio ed una rete tra istituzioni privati e associazioni assolutamente da supportare e ritorniamo adesso sulle pagine del Gazzettino prima abbiamo visto il fascicolo che apre anzi la pagina che apre il fascicolo dedicato al Friuli andiamo adesso a vedere la prima pagina del fascicolo di Pordenone ecco il titolo La notte bianca delle confessioni appuntamento a Frattina di Pravisdomini dalle 15 di venerdì alle 18 e 30 di sabato il presule sarà anche in cattedra a Concordia organizzata una maratona per purificarsi dai peccati sarà la notte bianca della fede con un occhio di riguardo per un fenomeno che ha vissuto anni di crisi profonda la confessione nel cuore del periodo quaresimale a poco più di 20 giorni dalla Pasqua la diocesi di Concordia Pordenone si mobilita con una proposta singolare articolata in tre segmenti complementari che si svilupperanno tra venerdì e sabato la veglia la messa il pentimento ed è ecco la notizia che apre appunto il fascicolo di Pordenone del gazzettino che adesso chiudiamo per andare a vedere la prima pagina del messaggero veneto di Udine leggiamo subito il titolo di apertura 5.000 in corsa per il posto fisso in palio 48 contratti a tempo indeterminato alla sanità e all'ARPA ecco il titolo poi nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo che ci racconta appunto di questa carica dei 5.000 in corsa per il posto fisso ancora sempre sulla prima pagina del messaggero veneto vediamo a centro pagina una foto di Alfredson in questo caso la notizia non ha però un taglio sportivo ma ci racconta un fatto di cronaca rubata al baby tifoso la maglia di Alfredson la disperazione del bambino l'udinese dice gliela restituiremo un adulto me l'ha strappata c'era una volta un piccolo tifoso bianconero il suo sogno era quello di ricevere da uno dei suoi beniamini la maglia del cuore e di portarla a casa c'era riuscito ma come ha raccontato in un tema in classe un adulto gliela strappata vediamo velocemente le altre notizie in primo piano sulla prima del messaggero veneto di Udine il Sauvignon friulano si prende la rivincita è il migliore d'Italia il titolo va a Cadibon del Coglio questo ha un anno esatto più o meno un anno e mezzo ci ricorda il messaggero veneto dall'inchiesta sul sul Sauvignon dall'inchiesta al trionfo in Francia un anno e mezzo fa lo shock andiamo a vedere anche le altre notizie anche sul messaggero veneto vediamo in primo piano il tema delle transazioni delle ex popolari venete transazioni al 60-70% ex popolari scadenza per i sì al vaglio dei consigli di amministrazione la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale delle due banche venete è inizialmente al vaglio della BCE ieri a Bruxelles si è tenuto l'incontro tanto atteso fra il ministro dell'economia Pier Carlo Padua nella commissaria della concorrenza Margret Vestager intanto oggi l'ex presidente della banca popolare di Vicenza Gianni Zonin si presenterà in procura ancora vediamo il centenario di Caporetto Mattarella atteso in Friuli per la cerimonia in programma in ottobre è molto probabile la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle cerimonie commemorative del centenario di Caporetto che verranno celebrate in date ancora da definire il prossimo ottobre lo ha annunciato a Cividale l'assessore regionale Gianni Torrenti e poi ancora il numero unico per le emergenze l'avvio previsto per oggi slitta ancora problemi tecnici emergenze il numero unico regionale slitta ancora andiamo nel taglio basso perché c'è una bella notizia che ci arriva da Ovaro Ovaro che festeggia una maxi vincita azzeccate varie combinazioni che valgono oltre un milione e mezzo di euro la dea bendata questa volta bussa in Carnia a Ovaro dove è stata realizzata una super vincita milionaria al super enalotto una schedina giocata ieri nell'edicola di Pietro Busolini ha fruttato un premio di oltre un milione e mezzo di euro sono state azzeccate infatti varie combinazioni e poi la storia di Laura Bassi dopo tre anni si avvera il miracolo di Laura di nuovo in piedi era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che l'aveva costretta appunto per tre anni sulla sedia a rotelle nelle pagine interne il racconto della sua storia e poi invece una notizia più leggera ancora il derby sul tiramisù tra Tolmezzo e Pieris che si sfidano proprio per quanto riguarda l'origine del tiramisù ancora qualche notizia andiamo di spalla per quanto riguarda la cronaca nera imprenditore muore in un incidente in Tanzania aveva 45 anni un imprenditore di San Giovanni al Natizone che proprio in Tanzania stava per avviare un resort non decolla la carta di identità elettronica attese e costi alti per questo nuovo strumento e poi un guasto lascia al buio per tre ore l'ospedale di Udine nella serata di ieri creando qualche disagio chiusa la prima pagina del messaggero Veneto di Udine prima di fermarci per un attimo di pubblicità e poi passare la linea ai colleghi dello sport andiamo a vedere anche quali sono gli appuntamenti principali di oggi su Udinese TV vediamo con l'aiuto della regia se riusciamo a mettere in sovraimpressione il box eccolo vi ricordavo prima lo speciale del TG questa sera alle 21 addio ai voucher ci occuperemo proprio di questo nel nostro approfondimento condotto da Nicola Angeli a cura della redazione adesso un po' di pubblicità e poi spazio a tutte le notizie sportive rimanete con noi